Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono code per il traffico intenso tra Firenze in Pluneta e Firenze Sud in direzione Roma e in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. Guidare con prudenza per la nebbia a banchi con visibilità a 90 metri tra Roncovilaccio e Aglio. Per la viabilità cittadina a Firenze in via Reginaldo Giuliani per la sostituzione di alcuni chiusini della rete idrica a restringimenti di carreggiata fino all'8 gennaio all'incrocio con via dello Stecuto. Infine per gli aerei il volo da Firenze a Barcellona delle 19.50 partirà in ritardo alle 20.50. Con questa edizione vi salutiamo e vi auguriamo di passare una felice epifania. Il nostro notiziario tornerà domenica mattina. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!